La particolarità, quello che io già da tempo, quando ho avuto un modo di leggerlo, ho detto non è il solito libro sua mafia, non è il solito libro in cui diciamo in qualche modo si fa accademia su questi argomenti, ma è il libro scritto da chi sta per strada, chi sta sulla strada, chi opera sulla strada, in luoghi dove voi sapete benissimo si spara per nulla, si muore per dei argomenti di conti e quindi è un libro che dà uno spaccato molto importante per quanto riguarda chi fa lavoro antimafia e non per chi parla di mafia o si parla addosso di mafia e questo credo sia un momento molto importante, un dato molto importante perché, ripercorrendo i vari capitoli del libro, che vi invito a leggere, perché io mi rendo molto che quando uno è ragazzo, uno mi sarebbe fatto ammazzare il primo